Come quella dei mammutones, che danno al carnevale sardo un carattere, un accento, ovvero arcaico. Si riuniscono qui i mammutones, nella casa di Sobreri, che mantiene viva questa antica tradizione, e vi digiunano tutta la notte conferendo alla festa un significato quasi religioso. Vestono con pelli, da cui pendono grappoli e festoni di campane. Sul volto è una maschera nera, in legno d'edera, dal significato apotropaico, cioè intesa ad allontanare gli spiriti maligni e le influenze nefaste. È un rito antichissimo, forse nuragico. Ricorda i giorni in cui il primo ariete o il primo toro furono obbligati al gioco, o forse un'antica vittoria dei sardi su sconosciuti nemici. A seconda dell'interpretazione, queste sono bestie giocate o nemici in catena. Un'antica vittoria dei sardi sui sconosciuti nemici.